Grazie a tutti, innanzitutto buonasera. Come va? Quanta gente! Allora, noi siamo i dammi, come ho appena detto, e siamo pronti per darvi un po' la sveglia con il primo pezzo che si intitola Dolce Dormire. Grazie. Allora, noi siamo pronti per darvi un po' la sveglia di abitarti, di non avere più vogliarti, di guardarti e di starti a sentire e di non poterti capire, certe volte vuoi insomma dormire perché non riesco a capire che c'è, a capire che cosa vuoi e a capire cosa vuoi con me E guardo i colori d'altro luco, vedo quegli fritti dello schermo e chissà non ho perso nella vita normale ma ora ne ho in confusione totale E c'è sempre qualcuno che mi piace E c'è sempre qualcuno che mi piace E c'è sempre qualcuno che mi piace perché non riesco a capire che c'è, a capire che cosa vuoi e a capire che cosa vuoi da me E guardo i colori d'altro luco, vedo quegli fritti dello schermo e mi sento perso nella vita normale ma ora ne ho in confusione totale E guardo i colori d'altro luco, vedo che cosa vuoi e di non poterti capire che c'è, a capire che c'è, a capire che c'è E guardo i colori d'altro luco, vedo che cosa vuoi e che c'è, a capire che c'è, a capire che c'è ma ora ne ho in confusione totale Fai un confusione totale